Sei pronta a volteggiare come una ballerina? Con il nuovo film Barbie e le scarpette rosa potrai imparare a ballare proprio come Barbie. Indossa le tue scarpette e segui questa facile lezione di danza. Siete pronte? E prima che te ne renda conto, danzerai proprio come una splendida ballerina. Fantastico ragazzi! Balla insieme a Barbie. La prima lezione comincerà tra poco. Seguila su Barbie.com e non perdere il film Barbie e le scarpette rosa. Disponibile dalla primavera 2013.